Negli ultimi giorni, il talent show, amici, è stato al centro del gossip a causa dell'inaspettata decisione di Mew e Matthew di abbandonare la trasmissione. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. I pettegolezzi si sono diffusi quando è circolata una foto dei due cantanti alla stazione Termini di Roma con le valigie in mano. L'account ufficiale del programma, su X, ha confermato che Mew e Matthew hanno lasciato la scuola per problemi personali, ma senza fornire ulteriori dettagli. La speculazione è cresciuta, con molte voci che suggerivano una possibile fuga d'amore tra i due artisti. Il gossip ha raggiunto l'apice quando è emersa l'ipotesi che Mew potesse essere incinta. Tuttavia, la cantante ha deciso di rompere il silenzio e smentire i rumor, lasciando due like su X sotto i commenti dei fan. In risposta a un messaggio di un fan preoccupato, Mew ha messo un like sotto il commento che diceva, please, di mezzo non c'è nessuna fuga d'amore e nessuna gravidanza spero o cose del genere. Penso che siano adulti e per lasciare il percorso entrambi vuol dire che i motivi per farlo erano piuttosto validi e dubito sia stata una scelta a cuor leggero. La cantante ha anche messo un like sotto un tweet che dichiarava, smettetela con questa stro asterisco asterisco ata della gravidanza. Mew e Matthew hanno scelto di non rilasciare ulteriori dichiarazioni o commenti sulla loro decisione di lasciare, amici. Il pubblico, sorpreso dalla notizia, si chiede ancora quali siano i motivi che hanno spinto i due artisti a prendere questa decisione. Valentina Turchetto, vero nome di Mew, considerata tra le favorite alla vittoria, e Matteo hanno dimostrato impegno e serietà nel corso del programma, rendendo ancora più misteriosa la loro scelta improvvisa. Resta da vedere se in futuro decideranno di raccontare i veri motivi dietro questa decisione inaspettata. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news, lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.